Montino, alla fine ti ho dato retta. Hola, finalmente. Ma su cosa? Ebbè, visto che il tuo era un consiglio spaziale, ho dovuto darti retta per forza e ho guardato Good Night, Hoppy. Sì, sì. Io ti ho detto di guardarlo perché così non lo guardavo io. Che è un bellissimo documentario, lo trovate su Prime Video se non l'avete ancora visto, che racconta proprio la storia di Opportunity, che era uno dei rover che abbiamo mandato su Marte, se l'avevamo mandato nel 2003 e doveva durare poche settimane, anzi 90 giorni, e invece è stato lì a fare il suo dovere per 15 anni. Pensa Megnetti che mi ricordo ancora quando l'hanno lanciato su. Ah, vedi? Quindi la cometano, invece Hoppy... Eh, vai a sapere. Comunque un documentario molto interessante anche perché tutto sommato mostra le grandi cose che può fare la nostra specie e tu vedi questi programmatori, questi ingegneri, questi ricercatrici, ricercatori entusiasti sia per il successo della missione e poi entristiti dalla fine di Hoppy che gli ha fatto compagna per così tanti anni a distanza. Ci pensavo un po' mentre preparavamo questa puntata, visto che da un lato riusciamo a fare grandissime cose e poi anche cose abbastanza terribili. Eh sì, perché la puntata di oggi è interamente dedicata alla guerra in Ucraina e risvolti scientifici alle ricadute sulla scienza e poi sulla vita di tutti noi. Io sono Beatrice Mautino E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Questa puntata di Ci vuole una scienza che state ascoltando esce il 24 febbraio 2023, quindi a un anno esatto dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Una guerra in Europa che ormai prosegue da allora e che ha causato la morte purtroppo di decine di migliaia di persone fra civili e soldati. Con l'arrivo della primavera, tra l'altro, ci si aspetta che riprendano con maggiore intensità le attività militari, nonostante l'esercito russo abbia finora faticato a compiere nuovi progressi, soprattutto dopo la controffensiva che c'era stata da parte dei soldati ucraini tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno dell'anno scorso. Per ulteriori approfondimenti e anche per un quadro più generale su a che punto è la guerra in Ucraina, vi rimandiamo all'ultima puntata del podcast Globo di Eugenio Cao, che proprio si è occupato di questi argomenti assieme a Daniele Raineri di Repubblica. Le implicazioni e le conseguenze della guerra in Ucraina sono varie e numerose, riguardano moltissimi settori, da quello energetico a quello della produzione di materie prime e inevitabilmente riguardano anche la ricerca e un po' tutti gli ambiti legati alla scienza. Noi ce ne eravamo occupati proprio nella primissima puntata di Ci vuole una scienza, nell'aprile scorso, tra l'altro Megnetti, è quasi un anno che siamo qua, e avevamo raccontato le valutazioni e poi le previsioni degli esperti su cosa ci saremmo dovuti aspettare da lì a qualche mese. Ora che è passato un anno dall'inizio della guerra, possiamo fare un primo bilancio e capire come un conflitto di questo tipo abbia conseguenze globali, anche su cose che a prima vista non ci verrebbe da ricondurre alla guerra. Infatti la prima cosa da ricordare, e forse anche la più ovvia, è che questo conflitto interessa alcuni dei paesi più grandi e potenti al mondo. C'è la Russia, ci sono gli Stati Uniti e poi gli stati membri dell'Unione Europea, solo per citarne alcuni, che fino a un anno fa collaboravano anche nella ricerca. Lo facevano condividendo dati e informazioni sulla ricerca di base, per esempio, oppure nell'ambito di progetti internazionali anche di grande portata. Naturalmente con tutte le difficoltà del caso, considerato che spesso la geopolitica si mette di mezzo anche in tempi di pace, complicando la vita a chi coltiva il proprio piccolo giardinetto nella ricerca. Con l'invasione dell'Ucraina molte di queste collaborazioni si sono interrotte un po' dall'oggi al domani, alcune le vedremo anche nel corso di questa puntata. Le sanzioni economiche, la chiusura dei confini, le attività di boicottaggio hanno fermato e in alcuni casi hanno fatto naufragare diverse iniziative scientifiche. Il paese più colpito anche dal punto di vista scientifico è stata inevitabilmente l'Ucraina, come ha raccontato di recente su Science Natalia Sciulga, direttrice del Club della Scienza Ucraino, che è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha l'obiettivo di promuovere la scienza e il suo insegnamento a livello scolastico. Sciulga su Science ha scritto che dopo l'invasione da parte della Russia si stima che almeno il 15% dei centri di ricerca in Ucraina siano andati distrutti, compreso un importante laboratorio dedicato allo studio della fisica delle particelle, un centro per lo studio della chimica e varie sedi del Ministero dell'Istruzione e della Scienza. E oltre ai danni fisici agli edifici la guerra ha anche causato l'interruzione dell'attività di ricerca che immaginiamo spesso come qualcosa di sospeso e inaccessibile dentro i laboratori che però in fin dei conti viene svolto da persone come noi e voi che ci state ascoltando in questo momento. Soprattutto le ricercatrici sono fuggite dai luoghi più esposti ai bombardamenti, specialmente nell'est del paese, mentre i ricercatori hanno lasciato i loro laboratori per unirsi all'esercito e resistere all'invasione della Russia. Quindi sono passati dalle provette purtroppo alle armi. Fare stime precise è difficile ma con una certa approssimazione è stato calcolato che almeno 200.000 persone tra chi studiava in ambito scientifico e chi faceva ricerca ha lasciato l'Ucraina cercando rifugio in altri paesi. Molte di queste persone hanno trovato nuove opportunità lavorative all'estero, fortunatamente, però potrebbero non tornare dopo la guerra, segnando una perdita importante di persone altamente formate sulle quali l'Ucraina avrebbe potuto contare. È una fuga dei cervelli, come spesso viene chiamata, di un tipo diverso rispetto a quella a cui siamo solitamente abituati e che è su una scala ancora difficile da stimare anche poi per le sue implicazioni future, come vedremo più avanti. Tutto questo è successo mentre l'Ucraina a fatica stava provando a riformare e aggiornare il proprio sistema educativo. Infatti dopo l'indipendenza del 1991, parte importante del processo di dissoluzione dell'Unione Sovietica, erano stati avviati a fatica dei piani per rinnovare le istituzioni scientifiche ucraine e slegarle dai vecchi programmi sovietici e poi anche ovviamente riformarle. Era un processo ancora in corso nel 2014 quando era iniziata l'occupazione della Crimea, sempre da parte della Russia, e che soffriva di quell'instabilità politica tipica dei paesi in conflitto. La preoccupazione di molti osservatori è che ora quel processo non solo si sia fermato ma abbia anche fatto qualche passo indietro compromettendo i progressi che a fatica erano stati raggiunti. Come avrete intuito da questo piccolo preambolo, l'argomento è piuttosto ampio e per questo abbiamo scelto di spacchettarlo, cercando di vedere che cosa è successo alla scienza in questo anno di guerra in vari settori, dall'impatto sugli ecosistemi all'agricoltura, passando per l'alimentazione, il settore farmaceutico oppure la ricerca di base e anche la fisica. Proveremo poi anche a fare qualche cauta valutazione su cosa potrebbe succedere ora mentre in Ucraina si continua ancora a combattere. Partiamo quindi con il primo pacchetto di questo tentativo di spacchettamento di una situazione davvero complessa e parliamo di effetti sull'ambiente del conflitto. Le implicazioni locali si possono immaginare, si va dalla contaminazione del suolo e dell'acqua, agli incendi, alla distruzione di porzioni di ecosistema fino all'inevitabile impatto ambientale che si avrà durante poi la ricostruzione una volta finita. Speriamo ovviamente presto la guerra. Il governo ucraino ha istituito una commissione che afferisce all'Ispettorato Statale per l'Ambiente e che ha il compito di creare un inventario dei danni ambientali provocati dalla guerra, suddividendoli poi per categorie. Immaginiamo che sia anche poi per eventualmente chiedere un risarcimento, quindi quantificare i danni per poi rifarsi sul paese invasore. La commissione si sta concentrando sui danni immediati, quelli facilmente misurabili con osservazioni sul campo e con sistemi di telerilevamento. Però quantificare gli effetti di lunga durata sull'ambiente e sull'ecosistema non è per niente facile, soprattutto a guerra ancora in corso. Esatto, le implicazioni possono essere anche a grandi distanze dal teatro di guerra vero e proprio. Un esempio ci arriva dalle ricerche che si svolgono nell'Artico, quindi molto più a nord, e che richiedono la presenza o quantomeno l'autorizzazione della Russia per essere svolte. Sappiamo che l'Artico è suddiviso fra vari paesi, non c'è strettamente un controllo sull'Artico, ma ci sono dei trattati internazionali. Un articolo che è stato pubblicato il 7 febbraio scorso su Yale Environment, che è la rivista dell'Università di Yale, che è proprio dedicata all'ambiente, fa il punto partendo dall'esempio che riguarda l'osservazione di una colonia di orsi polari che era normalmente effettuata su una base nella parte americana del mare dei Chukchi, che possiamo collocare sopra lo stretto di Bering, che è quello stretto che divide proprio la Russia nel suo estremo oriente con invece gli Stati Uniti nella parte dell'Alaska. A causa del riscaldamento globale e della riduzione del ghiaccio marino, qualche anno fa i ricercatori avevano bisogno di trovare un'altra base da cui osservare questi orsi polari e hanno quindi chiesto ai vicini dell'isola russa di Wrangel la possibilità di compiere da lì le osservazioni, visto che proprio in quella zona si rifugia gran parte degli orsi polari del mare dei Chukchi durante l'estate. Il governo russo aveva autorizzato la missione ed era anche partita una collaborazione fra Russia e Stati Uniti per l'osservazione di questa colonia dei 3000 orsi. Erano del resto già in corso altre tipologie di collaborazioni, sempre nella zona dell'Artico, che era proprio visto anche come un modello di cooperazione fra stati, almeno dal punto di vista della ricerca scientifica. In seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le cose sono cambiate. Tutti i progetti di studio dell'ecosistema artico che coinvolgevano la Russia sono stati sospesi, compreso quello sugli orsi polari del mare dei Chukchi, che adesso chissà come staranno, non lo sappiamo. Tra l'altro questa cessazione della collaborazione scientifica arriva in un momento abbastanza precario per l'Artico, con l'aumento dei rischi ambientali dovuti ai cambiamenti climatici di cui abbiamo parlato più volte e che sono sempre presenti sia nelle nostre menti ma anche proprio nel nostro vissuto, a cui però si è aggiunta anche una pressione da parte della Russia e poi degli altri stati confinanti per ridefinire le linee di confine con obiettivi ovviamente di sfruttamento proprio sull'Artico. Prima della guerra si stavano del resto compiendo dei progressi scientifici e diplomatici su molte questioni ambientali emergenti che si stanno proponendo negli ultimi anni tra cui un accordo per prevenire la pesca non regolamentata in alto mare nell'oceano Artico centrale perché la maggior parte di questa regione è ricoperta di ghiaccio tutto l'anno e quindi impedisce la possibilità di una pesca commerciale quindi su grande scala. Però con il ritiro del ghiaccio i paesi che si affacciano sull'Artico potrebbero spazzare via gli stocchittici come è successo con il merluzzo bianco in un'area non regolamentata del mare di Bering negli anni Ottanta e con tutte le conseguenze ambientali che ci furono. Ovviamente è tutto saltato un anno fa appena iniziata la guerra. Così come sono saltate le collaborazioni internazionali in materia di contenimento delle emissioni di gas serra. La Russia ha più torbiere di qualsiasi altro paese. Queste torbiere sono ricche di carbonio molte sono state gravemente degradate dall'estrazione di minerali o dall'agricoltura o da pratiche forestali di vario tipo e ovviamente anche dallo sviluppo di petrolio e gas e i cambiamenti climatici le hanno rese molto vulnerabili agli incendi. Nel 2010 la Russia ha avuto 30.000 incendi in più di 20 regioni e questi incendi e il degrado delle torbiere rappresentano attualmente il 5% delle emissioni di gas serra del paese. Ed è stato proprio dopo una stagione particolarmente catastrofica di incendi che è avvenuta qualche anno fa che la Germania aveva offerto competenze e denaro per aiutare la Russia a ripristinare i regimi idrologici che mantengono umide le torbiere quindi che le fanno incendiare meno detta proprio in maniera super semplificata. Ovviamente, e questa ormai non è più una sorpresa, il giorno in cui la Russia ha invaso l'Ucraina gli istituti tedeschi hanno ritirato il loro sostegno così come è stato ritirato il sostegno del governo tedesco. Come avrete intuito, gli esempi possono essere molti ed è anche difficile poi sistematizzarli e inquadrarli tutti. Gli scienziati ci stanno provando anche con l'obiettivo di realizzare un modello di azione collettiva da applicare in altre situazioni critiche e analoghe che si potrebbero verificare come ha anche spiegato un gruppo di autori in una lettera intitolata L'impronta ecologica dell'invasione russa e dell'Ucraina che è stata pubblicata il 15 settembre scorso sulla rivista scientifica Nature. Gli autori avevano detto, e qui citiamo testualmente, ci auguriamo che il corpus di conoscenze accumulato attraverso questi studi fornisca un punto di riferimento per i successivi piani di bonifica in Ucraina non che prove a sostegno delle richieste di risarcimento che verranno fatte alla Russia. Potrebbe anche fornire un modello per la valutazione dei danni in tempo di guerra ed il recupero in altre parti del mondo colpite da conflitti militari. Passiamo a un altro di quei pacchetti che ci dicevamo all'inizio ed è un pacchetto che ci riguarda tutti quotidianamente senza distinzioni di nessun tipo perché è il pacchetto dell'alimentazione quindi del cibo che portiamo in tavola. Russia e Ucraina sono tra i maggiori esportatori mondiali di grano e di mais e quindi le conseguenze della guerra sull'agricoltura e sulla zootecnia a livello mondiale erano inevitabili ed erano già molto preoccupanti fin dall'inizio. Infatti noi avevamo scelto di dedicare la prima puntata di Ci vuole una scienza proprio a questi temi qui. In molti paesi sono aumentati i prezzi per il grano, il mais e gli altri cereali prodotti da questi paesi e di conseguenza anche i prezzi di tutte le filiere che ne derivano e sono aumentate anche le produzioni e le esportazioni di cereali da parte di altri paesi. Proprio per questo le preoccupazioni degli esperti sono molteplici e una di queste è legata alle conseguenze che possono esserci per la salute e per l'ambiente con l'aumento di questi costi. Se ne è occupato per esempio un gruppo di ricerca scozzese e statunitense in uno studio pubblicato a dicembre 2022 sulla rivista Nature Food. Il gruppo di ricerca ha utilizzato alcuni modelli matematici e ha stimato un aumento dei costi del 60-100% nel 2023 rispetto ai livelli del 2021 nel settore dell'alimentazione. Secondo i calcoli del gruppo di ricerca questo potrà portare inoltre alla denutrizione di 61-107 milioni di persone sempre quest'anno e a ulteriori decessi annuali stimati fra i 416 mila e gli oltre un milione di persone. Inoltre la corsa ai ripari da parte degli altri stati per sopperire alla produzione mancata da parte di Ucraina e Russia rischia di avere due conseguenze. La prima si ricollega al tema che abbiamo affrontato poco fa e cioè all'espansione dei terreni agricoli a scapito della biodiversità e del contenimento delle emissioni di gas serra. La seconda è che questi sconvolgimenti possano far ripartire la corsa al cosiddetto land grabbing cioè un fenomeno che letteralmente significa accaparramento delle terre che vengono ovviamente sottratte a degli habitat naturali come possono essere le foreste o anche a popolazioni più povere del sud del mondo. E proprio a questo è dedicato un approfondimento sul numero di science in uscita domani. Le acquisizioni di terra su larga scala nei paesi a basso e medio reddito sono aumentate in modo significativo in seguito alla crisi alimentare del 2008 con circa 45 milioni di ettari di terra più o meno le dimensioni della Svezia oppure del Marocco che sono stati acquisiti attraverso degli accordi transnazionali. La parola accordi non rende bene il senso di queste operazioni che spesso hanno un po' più l'aspetto di una espropriazione ai danni degli abitanti locali e tendono poi a concentrare la proprietà della terra in un numero ristretto di proprietari. Negli ultimi anni il land grabbing sembrava fosse rallentato ma dopo l'inizio della guerra in Ucraina sono tornati alcuni segnali preoccupanti di una possibile ripresa e questi segnali sono proprio l'aumento dei prezzi di cibo dell'energia e dei fertilizzanti associato poi alla diminuzione dell'offerta o all'aumento della domanda come spiega sempre il gruppo di ricerca nell'articolo di Science che uscirà domani. Come dicevamo all'inizio della puntata la scienza la fanno le persone proprio come la guerra tra l'altro e gli incessanti bombardamenti aerei da parte della Russia su alcune delle principali città ucraine hanno indotto milioni di persone a trasferirsi in aree del paese meno a rischio oppure di cercare rifugio e ospitalità all'estero come abbiamo già detto prima in particolare nei paesi immediatamente confinanti che sono poi quelli dell'Unione Europea tra loro ci sono migliaia di scienziati di ricercatrici di analisti e di esperti in numerosi ambiti scientifici e anche poi dello sviluppo tecnologico molti di loro hanno trovato ospitalità soprattutto in Polonia dove l'Accademia delle Scienze Polacca e altre istituzioni hanno dato ospitalità a centinaia di ricercatori e ricercatrici ucraine la Polonia è del resto il principale partner scientifico dell'Ucraina circa quattro anni fa aveva proprio superato la Russia che fino ad allora invece era stato il partner d'eccellenza per l'Ucraina questo per evidenti ragioni storiche l'allontanamento dalla Russia e l'avvio di maggiori collaborazioni con l'Europa occidentale era quindi in corso già da qualche anno però ha avuto un'accelerazione proprio durante la guerra gli scienziati non sono certamente le uniche persone ad aver perso il lavoro oppure essere state costrette a fuggire dall'Ucraina però proviamo per un momento a immaginare che cosa significhi per chi fa ricerca dover sospendere o ancora peggio dover rinunciare dall'oggi al domani al progetto che stava seguendo gruppi di ricerca hanno dovuto abbandonare i loro laboratori con esperimenti che erano in corso perdendo dati preziosi che avrebbero consentito loro di concludere i loro studi nel momento in cui si fa ricerca in laboratorio si è in genere molto legati al luogo dove questa sta avvenendo e quindi non potervi accedere più significa perdere tutto quel lavoro magari di anni con la necessità di trovare nuovi investimenti per ricominciare poi tutto da capo altrove o magari anche lì però tra un bel po' di tempo e sì infatti a fase alterna alcune attività di ricerca sono già riprese a Kiev Dnipro e Leopoli città di cui abbiamo spesso sentito parlare nell'ultimo anno a causa dei bombardamenti russi e che giocoforza ci sono diventate familiari si lavora cercando riparo quando suonano gli allarmi dell'antiaerea e con le difficoltà nel reperire il materiale necessario anche per proseguire poi gli esperimenti le cose comunque non vanno molto meglio in Russia perché questo blocco internazionale nei confronti della Russia ha fatto sì che molte istituzioni abbiano dovuto sospendere o chiudere diverse attività di ricerca specialmente nei primi mesi dopo l'invasione vari accademici avevano scritto lettere aperte e sottoscritto l'invasione dell'Ucraina dall'interno della Russia anche se poi alcune istituzioni giocoforza hanno comunque dovuto dare il loro sostegno alle attività militari portate avanti dal governo come era stato per esempio il caso dell'assemblea dei rettori universitari russi le dure sanzioni economiche che limitano fortemente la possibilità per la Russia di importare praticamente qualsiasi cosa così come le limitazioni ai trasferimenti di denaro hanno bloccato il lavoro in molti laboratori mancano i reagenti mancano gli strumenti per svolgere la ricerca di base ma mancano anche computer e dispositivi per registrare i dati e poi elaborarli è stato stimato che la Russia possa rimanere indietro di 10-20 anni in molti ambiti della ricerca scientifica rispetto ai paesi occidentali anche se ovviamente è difficile calcolare quale possa essere effettivamente il danno è comunque evidente che più proseguirà la guerra più sarà difficile ricreare legami proprio perché i legami sono fatti da persone come dicevamo prima esattamente come la scienza esattamente come la guerra e quindi ricostruire rapporti che non siano solo professionali ma anche di fiducia Poco fa Mautino accennavi alle materie prime che servono anche per la ricerca non soltanto alla crisi della materia prime su scala più generale e nella prima puntata di ci vuole una scienza ci dicevamo anche che questa guerra ci ha insegnato che i confini sono molto più labili di quello che sembrano viviamo in un mondo che è ormai super interconnesso come sappiamo e molti dei nostri settori produttivi subiscono l'influenza di quello che accade anche molto lontano da noi specialmente se è qualcosa di traumatico come una guerra una di queste conseguenze che è inaspettata per chi come noi e molti di voi non lavora nel settore è stata la carenza di materie prime e prodotti chimici per l'industria farmaceutica e in particolare per un settore specifico che è quello dello sviluppo di nuovi farmaci si riassumendo molto il processo che porta allo sviluppo di un nuovo farmaco parte ovviamente con la malattia che si deve curare e con l'individuazione di un target cioè di un bersaglio che può essere per esempio una proteina i ricercatori vanno quindi alla ricerca di composti chimici in grado di legarsi in maniera specifica a questo bersaglio quindi di riconoscerlo e di agganciarsi in qualche modo per poi svolgere l'attività terapeutica che devono svolgere questo lavoro prevede uno screening reale oppure virtuale di milioni di composti chimici per individuare quello giusto se c'è oppure costruirlo se non c'è ancora è un lavoro che come potrete immaginare è sterminato e che è stato facilitato negli anni dalla produzione di molecole che nel settore vengono chiamate building blocks cioè mattoncini delle costruzioni che possono essere assemblati un po' proprio come i Lego per produrre delle forme differenti e poi dalla forma deriva spesso la funzione nel caso di questi mattoncini siamo arrivati ad avere circa 40 miliardi di questi mattoncini che sono racchiusi in biblioteche in parte virtuali e quindi attingendo a queste poi si può ricostruire il mattoncino desiderato in parte reali nelle quali i ricercatori possono cercare e poi eventualmente ordinare i pezzi che servono per raggiungere una determinata funzione e da una lettera pubblicata su Science nel maggio del 2022 abbiamo imparato con preoccupazione che il 90% di quei mattoncini arriva anzi forse arrivava proprio dall'Ucraina dove si è sviluppata negli anni una filiera molto specifica Enamin che è la più grande di queste aziende prima del conflitto produceva 2000 nuovi mattoncini al mese la produzione ovviamente si è interrotta completamente un anno fa poi è ripresa pian piano anche grazie alla collaborazione di aziende di altre nazionalità che hanno ospitato o parte della collezione oppure hanno dato supporto logistico e operativo all'azienda che comunque continua a essere lì e insomma ci sono i ricercatori che ci lavorano dentro però stando alle parole del proprietario di questa azienda pubblicate sul loro sito la tregua è fragile i rischi sono altissimi sia di perdere un patrimonio importante di conoscenza queste biblioteche appunto gigantesche sia di rallentare ulteriormente il processo di sviluppo di nuovi farmaci e questo ovviamente ci riguarda tutti e Mautino non è una puntata tanto facile eh no cerchiamo quindi per un momento di allontanarci perlomeno dalla zona dove tutto quello sta succedendo e andiamo nel sottosuolo a cento metri di profondità fra la Svizzera e la Francia ti va di fare un giro cambiamo un po' aria un attimo dai ecco vicino a Ginevra ci troviamo e questa area nel sottosuolo comprende un enorme anello pensa che lungo 27 chilometri dove scienziate e scienziati da tutto il mondo studiano le origini della materia è tutto sommato il più grande laboratorio al mondo c'è poco da fare e questo anello sotterraneo si chiama Large Hadron Collider cioè LHC e fa parte dell'organizzazione europea per la ricerca nucleare che siamo tutti abituati a chiamare CERN bello all'italiana tra l'altro sì ecco l'LHC è un acceleratore di particelle potete immaginarlo come una specie di grande circuito da corsa dove gruppi di ricerca si divertono a far scontrare fra loro le particelle dopo averle spinte a una velocità di poco inferiore a quella della luce lo fanno e poi vanno un po' a vedere che cosa è successo dopo l'incidente quindi cercano di scoprire che cosa è rimasto in modo da ricostruire le caratteristiche stesse delle particelle che sono talmente piccole da non poter essere osservate eppure fondamentali per spiegare l'esistenza di tutto in un certo senso anche di questo podcast Mautino ah beh certo sì anche se non credo che spiegare l'esistenza di questo podcast sia tra i loro obiettivi principali però so che in quello che tu hai definito come circuito gli scienziati quando ovviamente la macchina è spenta fanno anche delle belle gare in bicicletta insomma quindi lo usano e lo frequentano i quattro esperimenti principali che vengono fatti dentro al CERN sono Alice ATLAS CMS e LHCB ognuna di queste parole è in realtà una sigla che sta a significare un sacco di cose molto difficili e questi esperimenti sono svolti da migliaia di ricercatori e da ricercatrici da tutto il mondo a fare ricerca ci sono anche un migliaio di russi che vengono finanziati spesso da istituzioni e organizzazioni scientifiche russe per i quali le cose si sono complicate non poco dopo l'invasione dell'Ucraina forse qualcuno di voi si ricorderà che lo scorso marzo il consiglio che gestisce il CERN aveva deciso che i gruppi di ricerca russi avrebbero potuto continuare a lavorare agli esperimenti stabilendo però di interrompere ogni collaborazione allo scadere degli accordi ancora in vigore che termineranno tra poco il prossimo anno la scelta era stata molto commentata perché di fatto escludeva la Russia e anche la Bielorussia che è il paese alleato della Russia da numerose attività scientifiche in un campo dove si fa moltissima ricerca ripetiamo che quello è il laboratorio più grande al mondo la decisione del CERN non era comunque bastata a molti gruppi di ricerca che avevano detto di non voler comparire sulle pubblicazioni scientifiche insieme agli autori o alle organizzazioni russe che li avevano finanziati per motivi di opportunità e quindi erano state esplorate varie strade come la possibilità di pubblicare tutti gli autori senza indicazioni delle affiliazioni però questo avrebbe complicato il lavoro per molti gruppi di ricerca anche non russi perché non avrebbero potuto indicare quelle istituzioni che li avevano finanziati e che sono importanti come indicazioni anche magari per ottenere in futuro successivi finanziamenti oppure per dimostrare a quelle istituzioni che cosa si è fatto con i loro soldi ne era nata una situazione di stallo che si è protratta per quasi un anno con centinaia di ricerche molto importanti sulla fisica delle particelle e non solo pronte e però non pubblicabili sui siti delle riviste scientifiche alcune erano state messe a disposizione online dentro a degli archivi appositi però senza le indicazioni formali e poi pratiche sugli autori che sono appunto importanti per le successive citazioni lo stallo secondo alcune analisi ha rallentato la ricerca a dimostrazione di come una guerra possa avere effetti anche in Svizzera il paese più neutrale per antonomasia dopo lunghe discussioni a metà febbraio di quest'anno quindi del 2023 al CERN hanno trovato un accordo le ricerche scientifiche saranno pubblicate indicando la maggior parte delle affiliazioni di ogni autore e il corrispondente Open Researcher and Contributor ID cioè quello che viene chiamato ORCID quindi dall'acronimo di questa definizione che è un identificativo composto da numeri e lettere che viene assegnato a ogni ricercatore per renderlo identificabile in modo univoco un po' come se fosse il suo codice a barre le autrici e gli autori russi e bielorussi saranno invece indicati solamente con questo ORCID quindi con questa sigla con questo codice e con una indicazione molto generica su eventuali affiliazioni altre informazioni rese non visibili sugli archivi digitali conterranno comunque indicazioni più specifiche sulle istituzioni con cui ovviamente sono affiliate in modo da renderli più facili da cercare negli elenchi è una soluzione di compromesso che è arrivata alla fine di un lunghissimo confronto e che dovrebbe far uscire il CERN dallo stalo di cui parlavamo prima però è anche abbastanza insolita nella comunità scientifica ed è un'ulteriore conferma se ancora ce ne fosse bisogno dei tempi che stiamo affrontando Al termine di questa lunga carrellata possiamo dire che è difficile fare previsioni su come potrà riprendersi l'Ucraina anche dal punto di vista della ricerca scientifica che poi è il settore di cui ci occupiamo noi e che però come abbiamo visto è alla base di moltissime altre attività e opportunità sia per i singoli sia per la società Alla fine dello scorso anno l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico quella che di solito chiamiamo OXE ha pubblicato un'analisi sul futuro della scienza in Ucraina segnalando come si debba già iniziare ad agire adesso per assicurare una ripresa dopo la guerra e come queste iniziative debbano riguardare la comunità internazionale quindi tutti noi Esatto e secondo l'OXE questa potrebbe essere nel male un'occasione per rivedere anche parte dei funzionamenti delle istituzioni scientifiche più in generale dell'accademia cercando per esempio di renderle più permeabili al passaggio di questi cervelli si parla tanto della fuga dei cervelli ma si potrebbe trovare il modo per rendere più semplici questi trasferimenti e soprattutto fare in modo che non siano a senso unico detta più semplicemente se lasci un paese perché ci sono poche opportunità nel tuo settore dovresti comunque poterci tornare facilmente o cambiare nuovamente con un altro paese nel momento in cui si presentassero delle opportunità quindi i paesi alleati dell'Ucraina dovrebbero organizzare collaborazioni nel lungo periodo per governare meglio questi spostamenti di cervelli offrendo garanzia alle istituzioni scientifiche ucraine in difficoltà sul fatto che gli accordi dureranno per anni e che quindi potranno fare affidamento su queste risorse che poi sono persone che sanno cose e che ne vogliono scoprire altre tra l'altro Megnetti dovremmo farci portavoci di una moratoria internazionale sull'uso del termine fuga di cervelli quindi di vietarlo quindi possiamo dire fuga di persone fichissime che fanno cose pazzesche Questo mi piace già di più Comunque la digitalizzazione ha segnalato l'Ocse è un altro ambito in cui ci sono ancora ampi margini di miglioramento per rendere più accessibili e poi fruibili le informazioni e la condivisione della conoscenza in questo modo i gruppi di ricerca possono continuare a lavorare anche quando alcune istituzioni sono chiuse proprio fisicamente a causa della guerra e poi naturalmente un tema che è molto più ampio e enorme riguarda poi proprio tutti è la capacità di altri paesi di semplificare le procedure di accoglienza di persone che arrivano da posti dove ci sono delle guerre e sono persone che spesso hanno appunto studiato hanno delle potenzialità hanno degli interessi delle conoscenze che potrebbero mettere poi al servizio di tutti al tempo stesso nel caso specifico dell'Ucraina bisogna anche fare in modo di mantenere comunque dei forti legami con le istituzioni di appartenenza da parte delle persone che al momento hanno dovuto abbandonare il loro paese proprio per fare in modo di rendere più probabile un loro rientro alla fine della guerra evitando che le istituzioni scientifiche ucraine si svuotino Megnetti in questa puntata abbiamo parlato tanto anche di geografia di confini di rapporti tra nazioni di come questi confini l'abbiamo anche detto di come questi confini siano molto meno definiti di quello che sembra e parlando di queste cose non posso che non lanciarti ma proprio così su un piatto d'argento il tema dell'ultimo numero di cose esatto l'ultimo numero di cose spiegate bene che la rivista libro che pubblica periodicamente il post dedica questo ultimo numero proprio alla terra e alla geografia e alle cose di questo mondo quindi il titolo è la terra è rotonda e raccoglie proprio al suo interno diversi argomenti legati a come è fatto il mondo a come funziona quindi andiamo dal rapporto tra noi umani e la terra che l'abitiamo e come questo cambia poi continuamente anche nel corso del tempo purtroppo talvolta anche con le guerre il mio compare d'armadio qui è molto timido e quindi non lo dirà mai neanche sotto tortura però ha scritto lui di persona personalmente ben tre capitoli di questo libro per cui se ci ascoltate se vi piace lo spazio ci sarà lo spazio Mignetti c'è anche qualcosina di spazio se vi piacciono questi temi si parla anche di riscaldamento globale insomma di cose che se ci ascoltate probabilmente vi interessano insomma lo trovate dove lo trovano Mignetti allora la terra rotonda sarà disponibile in libreria a partire dal primo marzo però le persone abbonate al post possono già ordinarle e riceverla a casa in tantissimi lo hanno già fatto quindi iniziamo già a ringraziare tutte le persone abbonate che lo fanno oltre a essere anche abbonate al post trovate invece questa puntata e tutte le altre puntate di ci vuole una scienza sull'app del post e su tutte le app dove si ascoltano i podcast se volete scriverci come sempre potete farlo a ci vuole una scienza chiocciolaitpost.it tra l'altro vi dobbiamo ringraziare perché ci state scrivendo sempre di più e sempre più in tanti facendoci anche molti complimenti che ci imbarazzano ma ci fanno anche molto piacere e ci sentiamo come sempre venerdì prossimo ciao 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 ciao